Bene, domani 23 ottobre c'è un appuntamento importante promosso dalla CGL, dalla Confederazione, dalla FLC e dall'associazione Proteo Fare Sapere sul tema istruzione e formazione priorità negli investimenti. Un webinar che durerà tutta la mattinata di venerdì 23. Di che cosa si tratta, quali sono gli obiettivi e di cosa si parlerà ne discutiamo in questa intervista al segretario generale della FLC CGL, Francesco Sinopoli. Senta, nel sottotitolo e nel titolo anche del suo intervento si dice cambiare il paese, investire in istruzione e formazione, ecco come. Ecco come, cioè cosa vi proponete voi con questo webinar di domani mattina, con questa iniziativa che è sicuramente molto importante anche per i partecipanti che ci saranno, lo vedremo nel corso dell'intervista di Casinopoli. Dunque, noi siamo in un momento molto importante per l'Italia, siamo purtroppo ancora in una fase pandemica che tende a peggiorare, ma siamo anche di fronte all'imminenza di scelte che riguardano il futuro, perché le risorse che sono previste per il Recovery Fund, per Next Generation e quindi diciamo tutte le risorse che arriveranno dall'Unione Europea devono avere una priorità. Questa priorità non è scontata. Per noi la priorità è l'investimento in istruzione e ricerca. Queste risorse sono determinanti per le scelte che farà l'Italia nel suo futuro e quindi crediamo che sia il momento di avanzare delle proposte e sostenerle con tutta la forza che la CGL ha. Questa non è un'iniziativa solo della categoria, infatti è un'iniziativa della categoria insieme alla Confederazione. Il confronto con il governo, infatti, è un confronto che è a quel livello. Ci sono molti attori in campo che avranno anche idee diverse. C'è un pezzo importante nel mondo dell'impresa che chiederà, come sta già chiedendo, che le risorse del Recovery Fund, una parte significativa, vadano a incentivi all'impresa. Noi crediamo che servono invece investimenti diretti, più che incentivi, e investimenti diretti innanzitutto per l'istruzione e la ricerca, naturalmente, ma non è oggetto della nostra conversazione per la settimana. Ecco, ascolti, segretario, ma parliamo appunto delle risorse per la scuola. Voi avete già delle idee in mente. Per esempio, mi pare di aver capito che voi chiedete risorse anche per quanto riguarda il tempo scuola e non solo. Innanzitutto noi chiediamo 20 miliardi, che non sono pochi, ma non sono neanche tantissimi, se pensiamo al gap che ci separa dai nostri partner e competitori europei. Quindi innanzitutto c'è un tema di dimensione di queste risorse. Non è vero, come dicono alcuni commentatori, che in fondo non è un problema di soldi, è un problema anche di soldi. Noi sappiamo che sono state tagliate tante risorse, che la scuola è stata utilizzata come un bancomat, e che a farne le spese è stato innanzitutto il tempo scuola. Quindi un investimento che parte dal tempo scuola, dal tempo pieno e dal tempo prolungato, in tutto il paese. Deve essere garantito questo diritto, in tutto il paese. Ciò comporta naturalmente scelte che riguardano gli organici, ma che riguardano anche le infrastrutture. Perché noi sappiamo che nel mezzogiorno c'è un problema di infrastrutture, c'è un problema di mense, e sappiamo quanto conta il tempo scuola rispetto alla capacità della scuola di essere inclusiva, quanto conta il tempo scuola per abbattere i tassi di dispersione scolastica. Perché è importante ciò che è fuori dalla scuola, guardate, è importante. È importante l'offerta culturale dei comuni, è importante sicuramente il sistema dei servizi, ma è importante il tempo scuola. E noi crediamo che dal tempo scuola si debba ripartire. Ecco, mi pare di aver capito che avete anche idea di rilanciare con forza il problema relativo all'obbligo nella scuola dell'infanzia. È così? Sì, noi diremo, lo ha già detto il segretario generale, agli stati generali organizzati da Palazzo Chigi alcuni mesi fa. Quindi è una cosa che già in realtà è stata in qualche modo annunciata dalla CGL. È passata un po' sotto sordina, come se quando si parla di scuola poi non... Non ci crede nessuno dei grandi commentatori che sono cose importanti. Noi abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio, in quella sede, alcuni mesi fa, che il segmento 3-6 diventi obbligatorio. E lo ribadiremo. Noi vogliamo un investimento straordinario sulle scuole dell'infanzia statali. Devono aumentare le scuole dell'infanzia statali. E questo passa dall'obbligatorietà del segmento 3-6. Perché, guarda, io sono un genitore, oltre a essere il segretario generale dell'FLC, per me sarebbe impensabile che mia figlia non avesse il diritto e anche l'obbligo, devo dire, di seguire la scuola partendo dai tre anni. Ecco, mi sembra che un paese civile oggi debba porsi l'obiettivo. Come dice, guardi, Reginaldo, il governatore della Banca d'Italia, con parole chiarissime, io non sono sempre stato appassionato dei bank it, come si dice, però è stato molto chiaro, visco, e per noi condivisibile, bisogna aumentare i livelli complessivi di istruzione del nostro paese. Per noi passa da rendere obbligatorio il segmento 3-6, ma anche dal portare l'obbligo a 18 anni. Non nella chiave di ridurre la durata dei civili, e voglio essere chiaro, ma con l'obiettivo di aumentare complessivamente i livelli di istruzione del paese. Senta, segretario, fra i relatori che parleranno domani mattina ci sono due personaggi di un certo calibro scientifico, e precisamente Edgar Morin, che è uno dei massimi filosofi europei, e Mauro Cerutti, docente di filosofia della complessità. Sono due personaggi importanti. Perché avete pensato di invitare a parlare dei filosofi, dei pedagogisti? Perché la scuola infrastruttura ha bisogno di quegli investimenti a cui facevo riferimento, oltre ad altri che richiameremo, ma che ricordiamo sempre, la stabilizzazione dell'organico di fatto, quindi la trasformazione di tutti i posti dell'organico di fatto in organico di diritto, l'investimento nel funzionamento delle segreterie, ripensare il sistema di reclutamento, a cui dedicheremo un appuntamento specifico. Avevamo già iniziato a ragionarci prima del Covid, purtroppo si è interrotta, diciamo, questa nostra iniziativa. Ripensare i sistemi di valutazione, a cui dedicheremo, lo anticipo, un altro appuntamento specifico, però ritenevamo che insieme alla scuola infrastruttura, che ha bisogno quindi di scelte che riguardano le risorse importanti, bisognerebbe iniziare a ragionare, tornare a ragionare anche dei contenuti del sapere. Dice Moren in un'intervista del 2013 che missione ha l'insegnante, viene chiesto a Moren. Ecco, deve insegnare a vivere. Allora, insegnare a vivere oggi è difficile, perché siamo di fronte a sfide che anche la mia generazione non credeva si sarebbero, diciamo, concretizzate con questa drammaticità. Quello che stiamo vivendo oggi non è un accidente del destino, è frutto della compromissione della biosfera, direbbe Bergoglio. E allora, siccome le domande che si pongono agli studenti di oggi sono domande che comportano una riflessione sui contenuti del sapere, sulla missione della scuola, noi vorremmo che tornassi a ragionare anche di quelle. Bene, allora, la ringraziamo, Sinopoli, le facciamo i migliori auguri per la vostra iniziativa. Ricordiamo che l'appuntamento è a partire da domani mattina alle ore 9.30, istruzione, formazione e priorità negli investimenti. Si aprirà ovviamente con l'introduzione del segretario generale della FLC CGL, Francesco Sinopoli, ci saranno i saluti del grandissimo filosofo Edgar Morin, ci sarà una relazione di Mauro Cerutti, ci saranno interventi anche di politici e si concluderà con un intervento del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Quindi chi vuole collegarsi lo potrà fare, nel sito della FLC trova tutte le informazioni del caso. Grazie segretario. Grazie, grazie a voi. Buona giornata.